Benvenuti all'Abruzzo che vorrei, oggi abbiamo ospite qui con noi l'assessore regionale all'urbanistica, territorio, demanio marittimo, paesaggi, energie e rifiuti, Nicola Campitelli, candidato alle prossime elezioni regionali del 10 marzo in Abruzzo per Fratelli d'Italia. Benvenuto. Grazie, ciao Miriana, saluto tutti quanti. Ecco, iniziamo questa intervista, naturalmente l'intenzione è quella di raccontare quello che è stato fatto in questi cinque anni di governo di centrodestra con il presidente Marsilio. Io con lei vorrei partire da uno degli obiettivi di cui lei è davvero fiero, cioè il nuovo corso di laurea che è stato attivato, primo in Italia, in diritto dell'ambiente ed energia, che si trova a Lanciano. Sì, innanzitutto io da assessore uscente dovrei dire quello che ho fatto, ecco perché io mi ripropongo ai cittadini abruzzesi, perché è proprio sulla scorta delle cose fatte che io chiedo di nuovo la fiducia ai cittadini. Tant'è che sul mio ho fatto un piccolo manifesto, una piccola brochure, dove racconto i cinque anni di attività dell'assessore Campitelli. Non ho messo slogan, non ho messo delle parole così a caso, ma ho voluto raccontare le cose fatte. Tra le cose fatte ne sono tante. Come hai detto benissimo tu, c'è l'istituzione, quindi la RACI è il primo corso di laurea in diritto dell'ambiente e dell'energia in Italia. Non esiste altrove, c'è qualche master in giro per l'Italia, ma non esiste un corso di laurea. Questo corso di laurea è nato grazie alla regione Abruzzo. Il sottoscritto ha finanziato la start-up di questo corso di laurea con un milione e mezzo di euro per i primi tre anni. È un corso di laurea che è stato menzionato tra i migliori corsi in Italia. Io personalmente sono stato a ritirare un premio al Campidoglio a Roma, un premio internazionale. Ti posso garantire che è stato, al di là del contenuto, ma anche un grande motivo di orgoglio rappresentare la tua regione, la nostra regione, a Roma, in mezzo a tanti personaggi a livello internazionale per un corso di laurea. Quindi proprio per sottolineare che l'Abruzzo riparte dalla cultura. È una grande soddisfazione. Questo corso di laurea è una grandissima opportunità. È un'opportunità per le aziende perché potranno avere, da qui ai prossimi anni, delle figure professionali che li sappiano poi accompagnare verso gli obiettivi della transizione ecologica, quindi obiettivi del 2030. È un'opportunità per tanti ragazzi, giovani, per tanti abruzzesi che non devono andare fuori regione per avere un futuro dignitoso, ma possono studiare dentro casa e lavorare dentro casa. E soprattutto è un'opportunità anche per tanti genitori, perché possono magari permettersi di mandare i figli all'università senza spendere migliaia di euro al mese per mandarli magari in grosse città al nord della nostra nazione, al nord del nostro paese. Quindi è un modello unico e soprattutto è un corso di laurea che nasce dalla base, dalla condivisione anche con le industrie più importanti del nostro territorio, con le società energetiche a livello nazionale, proprio perché questo corso deve avere poi l'obiettivo finale di formare queste figure professionali che poi sappiano traghettare l'Abruzzo, quindi verso la transizione ecologica, che per quanto mi riguarda deve rappresentare un'opportunità per i cittadini abruzzesi, non uno stilicidio. Certo, e a proposito appunto di transizione ecologica, energia, c'è stata grande attenzione da parte del governo regionale a sostenere le famiglie per il caro Bollette. Ecco, che cosa è stato fatto a riguardo? Noi abbiamo superato un periodo che io definirei la tempesta perfetta, perché da una parte il Covid che ha messo in ginocchio tutto il mondo, è chiaro che ha messo in ginocchio anche l'Abruzzo. Dall'altra parte c'è stato, dopo l'evento bellico tra Russia e Ucraina, abbiamo visto, abbiamo toccato tutti con mano il caro Bollette, l'abbiamo toccato noi, le famiglie, ma l'hanno toccato anche le aziende. Chiaro che tanti sono venuti all'assessore dell'energia della regione Abruzzo, noi abbiamo cercato di aiutare, al di là magari di qualche aiuto, anche contributi che noi abbiamo previsto in consiglio regionale, ma soprattutto ho voluto creare i presupposti per rendere la nostra regione più autonoma dal punto di vista energetico. Diciamoci la verità, tanti di noi hanno capito quanto è importante essere autonomi dal punto di vista energetico solo dopo la guerra tra Ucraina e Russia. È chiaro che io, da assessore all'energia della nostra regione, mi sono prefissato l'obiettivo, quello di perlomeno cercare di rendere autonoma la regione Abruzzo dal punto di vista energetico. È un percorso che noi dobbiamo percorrere, tutti quanti insieme, da soli, non si fa in nessuna parte. È un po' per cambiare anche, creare una cultura di questo tema. Assolutamente, creare una cultura, ma soprattutto siamo riusciti a intercettare dei finanziamenti importanti che cambieranno l'immagine della nostra regione dal punto di vista energetico, aumentando la capacità rinnovabile della nostra regione. Noi siamo una regione altamente rinnovabile, quindi ha una buona capacità rinnovabile, oltre il 27%. Noi produciamo 3 gigawatt di energia da fonte rinnovabile, quindi è un dato molto importante rispetto alle altre regioni. Abbiamo voluto aiutare le industrie, in che modo? Abbiamo intercettato 20 milioni di euro dal Ministero della Transizione Energetica per creare in Abruzzo tre impianti di produzione idrogeno. A cosa serviranno? Nelle aree di Smess. Nelle aree industriali di Smess, esatto. Tre impianti importanti su tutta la regione Abruzzo, due impianti saranno realizzati in provincia di Chieti, un impianto recuperando l'ex struttura di proprietà della regione Abruzzo, l'ex Cotir, che si trova praticamente all'uscita dell'autostrada di Vasto Nord, dove c'è un'ampia prateria di 20 ettari, una struttura che si trova da 20-25 anni, e quella struttura che oggi è in pieno degrado diventerà un polo tecnologico di produzione idrogeno a sostegno dei nuclei industriali della nostra regione. È un messaggio importante, non tanto per il costo energetico, perché oggi l'idrogeno non ha ancora un costo competitivo, anche se da qui in avanti, così come anche 20 anni fa il fotovoltaico non se lo poteva permettere nessuno, oggi ce l'abbiamo tutti, con l'idrogeno ad ampia produzione, ampia scala, il costo si abbasserà. Ma soprattutto noi mettiamo in sicurezza il tessuto produttivo abruzzese, perché da qui in avanti sono certo che le industrie, l'automotive, dovranno iniziare a produrre anche con l'idrogeno se vogliono continuare a prendere commesse a livello internazionale. Quindi questo è un segnale forte per il mondo industriale, per il mondo produttivo, e soprattutto per questa provincia, la provincia di Chiedi, che rappresenta il 40% del PIL abruzzese. Anche per le famiglie, abbiamo pensato anche alle famiglie per il caro bolletto, tant'è che abbiamo intercettato 94 milioni di euro per le comunità energetiche. Le comunità energetiche siamo noi, cittadini, che si mettono insieme e consumano l'energia green prodotta. Non hai la possibilità di mettere un pannello fotovoltaico, puoi avere comunque dei vantaggi in bolletta perché puoi usufruire di quello che ha il tuo vicino di casa. L'unione fa la forza, questo è il principio, oggi non ancora si comprende bene il grande potenziale della comunità energetica che comunque da qui in avanti diventerà uno strumento accessibile a tutti. È fondamentale. Ecco, un altro dei punti a cui lei tiene in particolare è la rigenerazione urbana. Sono stati intercettati fondi per 45 milioni di euro in tal senso. Che cosa avete predisposto? Da assessora all'urbanistica il mio primo obiettivo è stato quello di aumentare la qualità di vita dei cittadini abruzzesi. Che significa? Rendere i nostri spazi, i spazi collettivi, più a misura d'uomo. Questo obiettivo l'ho raggiunto percorrendo due strade. Da una parte una legislativa e quindi dopo 40 anni approvando una nuova legge urbanistica. La regione Abruzza aveva una legge urbanista nel 1983 che sicuramente era all'avanguardia 40 anni fa quando si parlava di espansione delle città, si parlava di consumo di suolo. Oggi non lo è più. Io ho voluto invece mettere a disposizione della nostra regione una legge urbanistica che sapesse interpretare il mondo che è cambiato non solo dal punto di vista urbanistico ma dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista energetico. Per questo motivo abbiamo redatto e approvato questa nuova legge urbanistica. Qualcuna si poteva fare meglio? Ma sicuramente sì. Intanto io l'ho fatto. Dopo 40 anni la regione Abruzza ha una nuova legge urbanistica. Prima di noi ci avevano approvato tutti, nessuno mai ci era riuscito. Questo governo regionale l'ha fatto. Poi lo vogliamo migliorare, lo vogliamo modellare. Abbiamo tutto il tempo necessario per renderlo ancora migliore. Ma abbiamo una grande base di partenza. E poi l'altra via è quella di intercettare i fondi. Grazie a un bando del Ministero delle Infrastrutture del 2020 la regione Abruzzo, il sottoscritto, ha partecipato a questo bando presentando tre progetti rispetto a questo bando pingua che quindi mira alla qualità dell'abitare. E siamo stati l'unica regione nei primi 18 posti in una classifica nazionale che si è vista finanziare tre progetti su tre presentati. Tre progetti presentati, tre progetti finanziati. L'unica regione d'Italia nei primi 18 posti a livello nazionale in una classifica. È stato fondamentale intercettare questi fondi per questi progetti? Assolutamente sì. Ma questi fondi non arrivano a caso. Questi fondi arrivano se tu ti alzi la mattina, lasci tutto da parte e vai a Roma, parli con chi devi parlare, cerchi di capire come funziona il mondo, cerchi di intercettare i fondi e prendere i fondi e portarli qui in Abruzzo. È fondamentale stata l'interlocuzione anche con il governo? Anche con il governo, certamente. Ma su questi progetti, soprattutto sul progetto pingua, siamo stati veramente bravi, lo devo dire, devo ringraziare anche la mia struttura, il mio staff, perché abbiamo centrato in pieno gli obiettivi del Ministero. rispondendo a questo bando, con progetti reali, concreti e in un unico progetto, voglio dire, andando a soddisfare le esigenze dal punto di vista sociale, energetico, ambientale, sportivo, abbiamo messo insieme tutto. Ecco perché abbiamo avuto questi 45 milioni di euro che significano 45 milioni di opere pubbliche, lavori pubblici, lavorano i tecnici, lavorano le imprese, lavorano i bar, i ristoranti, i commercianti, gli artigiani. Veramente una boccata di ossigeno per il tessuto economico abruzzese. E poi la mobilità sostenibile. Ecco, la via verde della costa dei Trabocchi. C'è stato questo progetto importante che è culminato con la grande partenza del Giro d'Italia, che è stata una vetrina importantissima, spettacolare, per promuovere il turismo della provincia di Chieti, della costa dei Trabocchi. Ecco, questo impegno, questo suo impegno per la mobilità sostenibile, cosa ha rappresentato nel suo percorso politico e amministrativo? Permettimi di dire, Miriana, che per me è stata anche una scommessa un po' vinta. La grande partenza del Giro d'Italia è dalla costa dei Trabocchi. Per quale motivo? Uno, marzo 2019, i Trabocchi dovevano essere rasi al suolo e noi avremmo rischiato di avere una costa dei Trabocchi senza Trabocchi per delle vicissitudine burocratiche e anche delle vicissitudine urbanistiche. In 30 giorni ho scritto e fatto approvare al Consiglio regionale una norma che salvasse, praticamente salvasse, diciamo, tutta la costa dei Trabocchi. Immagina di avere una costa dei Trabocchi senza Trabocchi sarebbe stato un fallimento, non solo per la politica, ma in senso trasversale. Certo, perché la peculiarità... Devo essere onesto, tutti ci abbiamo creduto dall'inizio rispetto a questa costa, ma soprattutto sarebbe stato un fallimento per la regione Abruzzo, anche dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, perché ci lavorano tantissime persone, e poi a livello di immagine. E quindi vedere, soprattutto la partenza del Giro d'Italia, da quella Via Verde, e quando io ero assessore alla provincia di Chiena, nel 2010 approvai il progetto preliminare della Via Verde, la costa dei Trabocchi, quando all'epoca tanti erano anche diffidenti, non tutti ci credevano, molti mi dissero che stavo asfaltando un vecchio tracciato ferroviario, invece io pensavo che sin dall'inizio che quello poteva essere un portale d'ingresso verso la regione Abruzzo, per tante persone, sia abruzzesi e per tanti stranieri e anche persone da fuori regione, che venivano a visitare la nostra regione. E quindi è chiaro vedere la partenza del Giro d'Italia da quel progetto che è partito tanti anni fa, per me è stata una scommessa vinta. Oggi c'è un'altra scommessa da vincere, che è quella che parzialmente stiamo a un buon punto, è quella di partire proprio dalla costa e dalla costa unire la costa con le aree interne. Attraverso un modello a pettine con delle trasversali ho messo su un progetto da 15 milioni di euro per la mobilità sostenibile, di cui 10 milioni li ho intercettati a Roma dal Ministero dell'Ambiente, tra cui questi soldi erano fermi al Ministero dell'Ambiente dal 2005 e non è che a Roma questi soldi non ce li hanno dati perché erano brutti e cattivi, perché nessuno era andato mai lì con dei progetti validi. Erano chiusi in un cassetto, dice sempre Marsiglio. Chiusi in un cassetto a marcire. La nostra capacità è stata quella di portare i soldi qui, 10 milioni il Ministero, 5 milioni dei fondi della Regione Abruzzo anche lì da tantissimi anni a marcire in un cassetto, 15 milioni ho redatto un progetto della mobilità sostenibile su scala regionale, tocchiamo tutte le località e partiamo con delle trasversali da nord a sud lungo tutta la nostra regione. Alcun esempio da Francavilla verso Pretoro recuperando il fiume Foro quindi una pista ciclabile che praticamente collega il Parco Nazionale della Maiella con la costa dei Trabocchi poi Ortona Orsonia diciamo andando recuperando l'extracciato ferroviario quindi come magari una sorta via dei vini dei vigneti perché lì comunque sappiamo quelle che sono anche le caratteristiche le peculiarità dal punto di vista agricolo e l'altro pezzo è quella che che collega quindi San Vito Rocca San Giovanni Treglio Lanciano fino a Castelfrentano quindi è il primo pezzo. Su questo progetto noi abbiamo già investito il 40% il soggetto attuatore sarà la società tua che è concessionaria di questo tracciato ferroviario la regione è sottoscritto come assessore alla mobilità ha già dato il 40% di anticipo alla società tua che sta predisponendo tutti gli atti per fare la gara e quindi far sì che questo lavoro possa finalmente iniziare in passato tutti ne avevano parlato noi abbiamo abbiamo realizzato noi abbiamo fatto credo i fatti questo è il messaggio che io vorrei far passare soprattutto ai cittadini e questo governo regionale è stato un governo regionale che probabilmente non ha fatto grossi clamori e grossi magari eventi per pubblicizzare tutte le cose fatte noi abbiamo lavorato in silenzio ma abbiamo cercato di proiettare la nostra regione verso il futuro ecco parliamo di edilizia sanitaria che è un tema importante ieri è stato siglato all'Aquila alla presenza del ministro Schillaci un importante accordo e a proposito di quei fondi chiusi nel cassetto saranno insomma utilizzati ben 60 milioni di euro in particolare per ristrutturare e mettere a norma l'ospedale di Chieti che si vanno ad aggiungere ad altri fondi per gli altri ospedali d'Abruzzo Avezzano Lanciano e Vasto esatto come dicevo prima il lavoro più grande che noi abbiamo fatto è stato quello di portare i soldi da Roma in Abruzzo e questo lo dobbiamo soprattutto al presidente Marco Marsiglio che ha saputo mettere a disposizione le proprie conoscenze romane a favore della sua regione che ha saputo dare grande autorevolezza alla nostra regione lì dove conta altrimenti non avremmo portato dopo 25 anni 388 milioni dell'edilizia sanitaria che veramente stavano marcendo nei cassetti dei ministeri in Abruzzo per fare tre nuove ospedali Lanciano Vasto e Avezzano in più più questi 60 milioni di euro per l'ospedale di Chieti è chiaro che sulla sanità c'è ancora tantissimo da fare noi ne siamo coscienti ma è anche vero e dobbiamo essere onesti che non è questa la sanità che abbiamo disegnata noi è una sanità con la quale anche noi abbiamo dovuto fare i conti con la mancanza di personale con la mancanza delle strutture idonee di strumenti di personale sanitario è una sanità che noi ci siamo anche trovati in qualche modo e voglio ricordare che per i primi due anni e mezzo Biriano e noi siamo stati commissariati dal covid noi abbiamo potuto iniziare a decidere programmare da due anni e mezzo a questa parte e in due anni e mezzo cambiare un declino inesorabile che comunque avevano dato alla sanità abruzzese ti assicuro che non è cosa semplice non è questa la sanità che noi vogliamo la sanità che funziona una sanità senza liste di attesa soprattutto quella di portare i fondi da Roma qui in Abruzzo l'abbiamo dimostrato con atti concreti i 388 milioni per i tre nuovi ospedali 60 milioni a Chieti così come tante altre risorse che noi abbiamo dato su tutta la regione Abruzzo proprio per aumentare il livello sanitario nella nostra regione come ho detto prima c'è ancora tanto da fare però abbiamo bisogno anche di continuità ed è di ieri a proposito di sanità la notizia che riguarda proprio l'ospedale di Lanciano che è stata bandita la gara per la progettazione quindi per il branding del nuovo ospedale Frentano inizia di fatto il cammino per la realizzazione di questa struttura che era attesa da tantissimi anni la cosa che a me dispiace sai Miriane cos'è che purtroppo attraverso questo covid abbiamo perso due anni e mezzo di questo di tempo perché senza il covid probabilmente oggi ci starebbero già le prime ruspe a demolire e a ricostruire questo nuovo ospedale quindi è un tassello importante ieri è uscito il bando per la progettazione esecutiva che significa che tutto ciò che noi stiamo dicendo che quello che io ho detto questa mattina sono dati reali dati concreti il nuovo ospedale a Lanciano si farà così come si farà a Basto così come anche a Chieti ci saranno interventi importanti di 60 milioni di euro per ammodernare la struttura più importante della nostra provincia che è il DEA di secondo livello di Chieti ecco la nuova via per l'Abruzzo questa è lo slogan non vogliamo chiamarlo slogan è il suo punto fermo che cosa significa per lei? una nuova via significa una nuova via di concepire anche la classe politica il pensiero politico una classe politica che non deve assumere delle scelte in base a una scadenza elettorale ma in base a cosa è giusto fare per il futuro dei nostri figli questo è stato il mio principio io ho avuto delle deleghe anche abbastanza rognose come i rifiuti in cinque anni in Abruzzo non si è sentito parlare di rifiuti rispetto al passato e questo non significa che io personalmente non ho avuto problemi i problemi ci sono stati ma li abbiamo affrontati con serietà prendendo anche decisioni come ho detto prima magari anche all'apparenza poco popolari ma sapevo che a lungo termine potevano dare i risultati strategici più importanti come 89 milioni di euro investiti per realizzare impianti che traghettano la regione Abruzzo verso l'economia circolare il rifiuto non più come un problema ma come un prodotto da reinserire in un ciclo produttivo una risorsa per il cittadino ecco questo è stato il principio e all'inizio non è stato semplice far capire questo messaggio all'inizio non era semplice nemmeno parlare di idrogeno ai cittadini mi venivano un po' come un marziano quando la prima volta che io parlavi di idrogeno in un consesso pubblico pensavano che ero matto parlavo di una bomba a idrogeno oggi è diventato diciamo opinione comune che l'idrogeno sarà il vettore energetico del futuro questa è la nuova via un nuovo modo di pensare parlare in modo onesto trasparente ai cittadini lavorare uscire la mattina tornare la notte e fare la sua missione fino al 10 di marzo io avrò l'onore e l'onere di essere assessore di questa regione e lo farò fino all'ultimo giorno fino all'ultimo minuto sarò a disposizione della mia regione di tutti quei cittadini che mi hanno dato fiducia e anche per quelli che non mi hanno dato fiducia perché quando si amministra bisogna togliersi la casacca politica e governare per il bene del proprio territorio della propria regione ecco l'Abruzzo che vorrebbe Nicola Campitelli quindi va in questa direzione assolutamente questa è l'Abruzzo che io vorrei un Abruzzo che possa permettere a tanti ragazzi e a tanti giovani di avere un futuro qui in Abruzzo senza magari lasciare questa bellissima terra la nostra terra per andare altrove quindi come detto io vorrei proprio gettare queste basi per un Abruzzo solido un Abruzzo che è bello non solo per per le bellezze diciamo artistiche naturali e ambientali ma che possa essere come dire anche un volano per tanti ragazzi che hanno voglia di rimanere qui in Abruzzo senza lasciare questa terra per andare altrove La ringraziamo per essere stato con noi ringraziamo l'assessore regionale Nicola Campitelli candidato alle prossime elezioni regionali del 10 marzo per il rinnovo del Consiglio regionale d'Abruzzo con il partito di Fratelli d'Italia e ringraziamo voi per l'attenzione